Storia virale numero 24. Le autrici sono Chiara Achini, Jessica Ambrosetti e Maria Elena Galbiati. Il tre. Io sono il tre. Perché? Perché è il nome che fa per te. Perché? Io sono un re. Perché? Perché ha in testa una corona che ti rende una gran persona. Io bevo solo caffè. Perché? Perché altro da bere non c'è. Io mangio solo purè. Perché? Perché sei un mollaccione e non sarai mai un numerone. Noi siamo in tre. Perché? Perché? Per fare dello spettacolo un bel miracolo. Io posso dire 33. Perché? Perché è il doppio di quello che c'è. Io piaccio a te, a te, a te, a te. Perché? Perché dovresti piacere, visto che hai un grosso sedere? Io chiedo sempre perché. Perché credi che un perché ti porti nel posto più bello che c'è. Perché? Perché? Perché sono il tre che diventa un re, che beve solo caffè, che mangia solo purè, che vale per tre, che dice 33, che dice 33 e che piace a te, a te, a te, a te. Che chiede sempre perché. Perché? Perché? Perché siamo in tre. Perché? Alla prossima storia.